e questo chi che gli ha insegnato? ah da solo che avete provato una volta? no no e gli hanno subito lui e quanto bevi oggi? stai lì aspetta fermo, fermo fermo eh ti ingosi eh? ma è suo poi dammi anche l'altra 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 oh ma va via, forza dai vai vai che sei a posto Billy? mi sono metto su YouTube Didi? Billy tu e tu